Dal Vangelo secondo Luca, in quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva, Giovanni l'ho fatto decapitare io, chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. La vanità non ha lunga vita, perché è come un palloncino di sapone. La vanità che non ci dà un vero guadagno. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna, si affanna a parire, per fingere, per sembrare. Questa è la vanità. La vanità è come una osteoporosi dell'anima. Le ossa di fuori sembrano buone, ma dentro sono tutti rovinate.